benvenuti in questa guida top 7 tavolette grafiche per bambini di consiglio pro tra questi 7 abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo orsen tavoletta grafica tavoletta da questa tavoletta grafica è un grande regalo per i bambini la lavagna lcd da 8,5 pollici è facile da usare e divertente da giocare i bambini possono disegnare scrivere e cancellare facilmente è un ottimo modo per incoraggiare la creatività dei bambini e sviluppare le loro abilità di scrittura punteggio 76 punti info in the sesta posizione al sesto posto troviamo genialba tavoletta grafica lcd scrittura questa tavoletta grafica è un regalo perfetto per i bambini è divertente colorato e portatile i bambini possono disegnare scrivere e giocare con la sua lavagna cancellabile la qualità è eccellente e la batteria dura a lungo un ottimo acquisto per i bambini di tutte le età punteggio 81 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo home stack tavoletta grafica lcd 12 questa tavoletta grafica lcd è un ottimo prodotto per i bambini il display colorato è facile da usare la cancellazione a secco rende il disegno divertente e senza sforzo la tavoletta è leggera e portatile quindi può essere facilmente trasportata ovunque punteggio 86 punti info in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare tavoletta grafica lcd scrittura 12 questa tavoletta grafica lcd è uno strumento eccellente per i bambini gli studenti e i progettisti la sua portabilità e la sua praticità la rendono ideale per l'uso in famiglia o in ufficio la penna è precisa e sensibile al tocco rendendo più facile disegnare e scrivere punteggio 84 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo cx tavoletta grafica lcd scrittura queste tavolette grafiche sono una grande aggiunta alla mia casa sono facili da usare portatili e divertenti per i bambini la loro funzione di cancellazione a secco è molto utile e la qualità della scrittura è eccellente ottimo acquisto punteggio 86 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo due pacchi tavoletta grafica bambini questa tavoletta grafica è un ottimo prodotto per i bambini il display lcd colorato da 8,5 pollici è molto chiaro e la scheda elettronica con pulsante di eliminazione e interruttore di blocco rende facile l'utilizzo la tavoletta di scrittura cancellabile è divertente e intuitiva punteggio 87 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica tavoletta grafica lcd scrittura 12 questa tavoletta grafica lcd è un ottimo strumento per bambini e adulti è portatile leggero e facile da usare la sua funzione di cancellazione a pressione è molto comoda e la sua luce led è abbastanza luminosa da vedere anche in ambienti bui punteggio 98 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale